Il tavolo a duce sulla sanità si è completato ed è emerso un quadro disastroso che noi in qualche modo avevamo anticipato con un editoriale, 150 milioni di Euro di disavanzo e 300 milioni di spesa per la migrazione sanitaria, che vuol dire la migrazione sanitaria? Come voi o come molti sanno, quando si parte per andarsi a curare a Milano, in Lombardia o in un'altra regione, per Calabria, per il sistema sanitario calabrese c'è un costo, noi dobbiamo rimborsare i dipartimenti della sanità delle regioni dove vanno i nostri corregionali. Sulla sanità prosegue lo scontro politico, Oliverio contro Scura, il ministro Lorenzini contro Oliverio, scaricamento di responsabilità e tuttavia la sanità continua a essere quella che è in Calabria. Liste d'attesa lunghissima, Ilea non applicati. Ora, al di là della disquisizione politica, al di là dello scontro Presidente della regione commissario per il rientro del debito indicato dal governo, perché come sempre nei grandi scontri il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto, il commissario scuro programma doveva stare qui nell'ambito della legge sui commissariamenti per la riduzione del debito, fatto sta che il debito è lievitato, la migrazione sanitaria ha aumentato i costi, quindi Scura ha fallito. Nella stessa proporzione ci sono responsabilità anche della regione che pur non avendo in capo la programmazione, comunque attraverso le direzioni generali gestisce la sanità in questa fase e se quindi la situazione finanziaria è peggiorata, anche i gestori hanno le loro responsabilità. In questa baraonda emerge, diciamo, è emersa in questi giorni una anomalia, una curiosità. I direttori generali si sono aumentati lo stipendio e se lo sono aumentati dopo che il Dipartimento regionale, quindi la Giunta regionale, ha dato un parere positivo sul loro operato. Ora, in una situazione del genere dove le responsabilità sono equamente ripartite tra commissario Scura e giunta regionale, non possiamo nemmeno ipotizzare per ritegno, per rispetto verso la condizione sanitaria della regione e verso i disagi dei calabresi, un aumento del 20-30% di già lauti stipendi dei direttori generali. Sappiamo che in queste ore alcuni direttori generali, quello di Cosenza e quello di Vibba, hanno già rinunciato a questo aumento, auspichiamo che lo facciano gli altri, ma la questione che ci fa riflettere è il fatto che tutto ciò è avvenuto dopo che la stampa ha reso pubblico quello che c'è da definire, oltre che un malcostume, una mancanza di rispetto, una mancanza di ritegno. Per il resto Scura dovrebbe essere più corretto istituzionalmente e rinunciare all'esposizione mediatica. Il Presidente Oliverio dovrebbe trovare gli elementi di equilibrio istituzionale per poter uscire da una vicenda che, oltre ad essere drammatica, sta diventando grottesca.